Questa è la nostra prima gara ufficiale dei soci, organizzata dal gruppo Scaler, vale a dire appassionati di modellismo, modellismo-automodellismo. Qui in particolare abbiamo realizzato a costo zero, in quest'area abbandonata, metà del comune, metà del ferrovia dello Stato, abbiamo realizzato un'area giochi per i grandi, per i grandi vuol dire per gli appassionati di modellismo, per ridare un futuro anche al nostro circolo, perché come tutti sappiamo la fine delle bocciofile sarà purtroppo la chiusura, perché non c'è un turnover, la bocce non gioca più nessuno in città, e vengono qui, passano la loro giornata, però poi la vita fa il suo corso, si invecchia e poi magari non c'è più la voglia di uscire di casa e ci si intana, diciamo, chiusi a fare nulla. Allora noi abbiamo pensato, diamo questo spazio agli appassionati di modellismo, di automodellismo, abbiamo realizzato due piste, questa è la più bella perché riguarda le jeep, quindi macchine a trazione 4x4, e gli appassionati sono tantissimi, oggi sono arrivati da Montoso, sono arrivati da altre località del Piemonte, e questo ci fa piacere, primo perché questa è l'unica pista che abbiamo nella città di Torino per adesso, e questo è importante, pensiamo a un sviluppo anche di altre iniziative, di altre associazioni che vogliano portare avanti questo hobby, perché effettivamente è una grande passione, anche io come presidente mi sono acquistato una macchina usata molto carina per giocare, ma è divertente, e soprattutto vorremmo insegnare ai ragazzi come si guidano queste macchine, perché è una prima scuola guida questa, è importante. Si sta svolgendo la prima gara di inaugurazione del nuovo tracciato, si sono all'incirca 18 macchinine che girano, ci sono ospiti anche da Montoso, ci sono tutti i soci, quasi tutti, è un hobby che sta prendendo piede, noi come associazione, come Tampa Team siamo 20 soci, in Italia non lo so, però ci sono altri team qui in città, da noi a Torino. Come potete vedere ci sono delle palline, avrete già visto lungo il percorso, che si chiamano porte, su queste porte quando il mezzo arriva deve passare con le quattro ruote, oltrepassarlo con le quattro ruote, senza ovviamente toccare la pallina, se tocca la pallina c'è una penalità in positivo, se oltrepassa la porta senza toccare le palline la penalità è in negativo, ed è una cosa vantaggiosa, meno punti si fanno e più si sta in alto in gradatori, in classifica. Ci sono dei punti che vengono assegnati, si chiamano punti scaler, ad esempio chi ha l'omino in macchina, chi ha la catena per tirarsi fuori da una situazione difficile, il verricello, quelli sono tutti i punti che vanno ad aiutare il nostro concorrente prima dell'inizio della gara. Una vettura abbastanza standard, hanno ovviamente tutte una carrozzeria personalizzata in base al gusto di chi la pilota. Nel telaio e nella componentistica meccanica, a parte lo sporco dovuto all'utilizzo, troviamo un motore elettrico di classe 540, comune su molti elettrodomestici, anche se non sembra, tutta una trasmissione con ingranaggi satellitari, dei cardani che permettono il 4x4 su tutte le ruote, attraverso dei differenziali posti sugli assi. Tutte le sospensioni hanno in generale 4 link che permettono di tenerle in linea e controllarne il movimento durante la scalata. Questi mezzi hanno una elevata articolazione in modo da potersi appoggiare su tutte le rocce e permetterne anche una buona aderenza. Questa categoria qua si sta aprendo adesso, nel senso che comunque era una categoria che non è molto conosciuta, però il modellismo è vasto, nel senso che comunque i grandi numeri più che altro si fanno nella scala 1 a 8, nei buggy, dove ci sono più piste, dove ci sono più manifestazioni, anche il touring in realtà va abbastanza bene. Abbiamo avuto il piacere, ci è stato chiesto di venire a supportare i ragazzi, abbiamo partecipato diciamo in modo un po' così, mettendo dei premi in palio per questa manifestazione molto carina, una bella giornata passata in compagnia. Se volete venirci a trovare, noi siamo sempre qui il sabato e la domenica, tutto il giorno, e anche qualche volta in settimana nel tardo pomeriggio, appena dopo il lavoro. Vi aspettiamo!